Attenti perché il Teramo è una squadra organizzata, ci credo, non siamo bene, perché c'è sempre un altro mondo, quindi penso che abbassare la guardia non sia il momento. Il clima in campo è buono, abbiamo sofferto, abbiamo tenuto botta, quindi penso che alla fine la squadra, anche soffrendo un po', ha sempre cercato di replicare colpo su colpo, questo è un atteggiamento importantissimo per queste partite così importanti. Non li avete fatti giocare? No, noi sapevamo, avevamo preparato determinate cose in settimana, quindi sapevamo loro come avrebbero preparato la partita, quindi oggi penso che sia il visto. Due parole sul pubblico? Bello, quando giochiamo con queste persone che ci sostengono, che ci fanno sentire, è uno spettacolo, il pubblico agulano io lo conoscevo dai tempi quando abbiamo perso la semifinale con Prato, quindi sapevo che avrebbero risposto alla grande e vanno ringraziati. Quindi non farò manco soprattutto per loro e per tutta la gente agulana. Numero secco, quanti spettatori ti aspetta al fattore? Penso tanti, non so quanti ma tanti, 5.000 euro.